È un evento di particolare importanza, quale può essere l'evento della processione molto sentito a Chieti. Si tratta di mettere una serie di misure organizzative da parte di chi è deputato a coniugare i due concetti di SAFETI e di SECURITY. Ognuno per la propria parte, ognuno per quello che potrà mettere in campo, si tratta soltanto di fissare quei giusti concetti di responsabilità e di organizzazione che devono coniugarsi. Si tratterà di organizzarsi al meglio per quanto riguarda soprattutto le zone di maggiore afflusso, in quanto si tratta di un evento itinerante, quindi non è che stazioni solo in un determinato luogo, quindi ci saranno delle strutture che verranno prese in considerazione per l'accesso, per il deflusso, per assicurare al meglio la riuscita dell'organizzazione. Nessuno ha mai detto che si voglia vietare eventi a meno che non ci siano delle particolari situazioni. Ripeto, si tratta soltanto di mettere a punto quello che è ormai una costante, io l'ho detto anche nel corso della festa della Polizia, ormai sono questi concetti fondanti dell'ordine della sicurezza pubblica a cui bisogna fare riferimento e che servono soprattutto, e questo è importante sottolineare, servono a salvaguardare la collettività da qualsiasi problema e rischio che un evento possa avere.